Assolutamente fantastica la fontana che scorre dalle piante sulle panchine in modo che uno possa stare a sedere la panchina con i piedi al fresco in questa estate è caldissimo, favoloso Continuiamo a passare dentro i palazzi e qui poi gelaterie, ristoranti e via via un po' più moderna diciamo della prima planteria di Parigi una bella evoluzione